Ciao a tutti, bentornati, ben ritrovati a questo punto a distanza di un anno passato dal Festival Online Bologna in Lettere 2020, quest'anno torna l'appuntamento con la videopoesia, sono veramente contento, felice, come l'anno scorso lo ero, di consolidare un appuntamento con questa forma mediale, ancora inusuale purtroppo in Italia, che parla, scrive e ascolta con le immagini. L'anno scorso la proposta del Festival Bologna in Lettere è andata molto bene, c'è stata una mini rassegna dei migliori video del Premio Ombres itinerante 2019, i migliori video che trattavano il tema dei borghi. Quest'anno, visto il crescente interesse sia della popolazione ma soprattutto dell'organizzazione, abbiamo deciso insieme a Enzo Campi, il direttore artistico, di lanciare una rassegna propria del Festival Bologna in Lettere e lo facciamo chiaramente con degli ospiti di livello internazionale che hanno dato molto alla videopoesia. Loro stessi proporranno cinque video, ma vi invito anche a informarvi, lo faremo ovviamente con le loro bio ed altre informazioni su chi sono. stiamo parlando di Don Conivis che è il pioniere mondiale della videopoesia, quello che si è occupato un po' a livello critico, che ha lanciato una sorta di manifesto che va a declinare che cos'è la videopoesia, i generi di poesia per immagine. è veramente interessante questo manifesto che si trova in rete e vi invito a andarlo a leggere. Poi c'è Ellen Duberi, che è il coeditore editor di Poetry Film Live, e poi abbiamo Gayat Almadon, che è stato il miglior film 2020 del Zebra Poetry Film Festival, che è uno dei migliori festival al mondo di videopoesia che ha sede a Berlino, quindi abbiamo anche una partnership con il Zebra. Poi abbiamo un altro autore, a me molto vicino perché è stato il vincitore del premio Ombres 2020 di videopoesia, che è Shedon Chow, un filmmaker, videopoeta americano che ha trionfato alla nostra rassegna, di cui io sono appunto direttore artistico. In ultimo abbiamo Sohar Marongiu, che è una ragazza, una donna, una poetessa molto molto attiva nell'ambito della videopoesia, utilizza molto non solo le immagini, ma anche la musica, le performance. è un'artista molto polietrica che ho sottolineato davvero a far la parte nostra di questa rassegna. L'invito, come al solito, è quello di fuffarci nella visione di questi video che saranno in lingua, di godere delle parole, delle immagini, e chissà, magari questo coinvolgimento di performer, poeti e registi, sceneggiatori, filmmaker e musicisti, possa in un certo senso ampliare l'interesse verso questa forma d'arte che è veramente bella e interessante, lo testimonia la proposta di quest'anno. Vi faccio un saluto, buona visione, ciao. Grazie.